Riprendo a fare ancora un secondo video, non tanto lungo, perché se siamo qui che guardiamo è impossibile non filmarli. Io qui tramite la mia tv posso col cellulare con tranquillità a riprendere la televisione, un cellulare molto buono che veramente sono sorpreso perfino io a vedere ciò che riesco a fare. Torigo, la città del Limat, un fiume che attraversa Torigo, che entra nel lago. Tutto spettacolare. Noi. 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 Noi.